Bene amici, ogni tanto quando apro Amazon la piattaforma forse mi conosce, mi suggerisce cose strane e un giorno mi è apparso questo scatolottino, si chiama Carlin Kit e mi sono incuriosito allora ho studiato e può essere una cosa interessante, praticamente lui è un telefono Android perché gli si può mettere qua dietro la SIM, si può espandere la memoria con una scheda SD ha una presa USB di tipo C ma che si interfaccia con tutte quelle vetture che hanno, attenzione, non Android Auto ma CarPlay compatibile con il cavo perché lui utilizza questo escamotage per andare a proiettare le informazioni di un telefono Android, quindi non interfaccia Android Auto ma Android completo, sull'infotainment della vettura e allora siamo qua su una T-Rock, vediamo come funziona, ma prima vi faccio vedere cosa c'è in confezione una bene amata mazza, no in realtà c'è il cavetto USB Type-C oppure Type-C Type-C in base alla connessione che avete sulla vostra vettura qua abbiamo la Type-C Type-C e allora plagghiamolo una volta collegato col cavo ci mette qualche secondo ad avviarsi ecco la critica che gli faccio subito è che gli manca una batteria tampone integrata quindi quando spegnete la macchina, magari anche velocemente fate benzina, al volo risalite e riaccendete e l'alimentazione via USB viene a mancare, beh si riavvia tutto e ci mette un pochino a riavviarsi un pochino vuol dire 15 secondi, non è che ci mette due minuti e mezzo e questa è l'interfaccia che è studiata appositamente per l'utilizzo in auto è un'interfaccia dove non si possono andare né a creare delle cartelle ma si possono comunque andare a raggiungere tutte le applicazioni che potremmo mettere sul telefono Android perché c'è il Play Store e vedete io ho appena installato questa applicazione per andare a vedere le informazioni sul sistema ma ovviamente è compatibile con tutte le applicazioni che sono compatibili attenzione con Android 9, sì perché la versione software non è proprio l'ultimissima così come non è l'ultimissima la versione del processore ma avete visto alla fine Gira non ha troppi lag per diciamo l'utilizzo in auto ci sta, è uno Snapdragon 450 e vi faccio vedere anche la memoria abbiamo 4 GB di RAM, 64 di memoria utente ma avete visto come ci sia anche l'espansione per la memoria questo pulsantino praticamente fa le veci dei pulsanti back home multitasking e schiacciando il pulsantino si può andare alla home ma cosa ancora più interessante si può fare proprio un multi Windows per esempio se io vado alla home page e magari da questa parte voglio avere Waze perché voglio avere la navigazione beh posso avere dall'altra parte una qualsiasi altra app anche applicazioni multimediali per esempio Spotify e posso comandare sia la musica e da questa parte posso avere la visualizzazione sulla navigazione è bello il fatto che vanno i comandi al volante ma non solo il volume bensì anche il cambio traccia, vedete si interfaccia tranquillamente con Spotify ma torniamo alla home page perché volevo farvi vedere altre due cosettine ovviamente c'è anche la possibilità del multitasking quindi andare a cancellare le applicazioni, a chiuderle e a gestirle ma funziona tranquillamente sia YouTube e ovviamente funziona sia la parte video sia la parte audio mi raccomando guardate i video solamente a vettura ferma anche se oggettivamente vi devo dire che funziona anche a vettura in movimento e come vedete va tutto schermo mannaggia la pubblicità Andrea, metti troppa pubblicità dentro dei video ma non so io che la metto, è Google che me la mette davanti ai video ovviamente no, sono anch'io che clicco sulla monetizzazione perché è da lì che posso proporvi anche queste recensioni perché questo scatolato me lo sono comprato su Amazon ma bando alle ciance, guardate, va tranquillamente a tutto schermo e ovviamente è compatibile anche con Netflix e anche qua si possono andare a vedere i video a tutto schermo ma andiamo a parlare di una funzione che ho trovato particolarmente interessante che è quella di poter sfruttare l'accrocchietto per collegare altri telefoni anche iOS quindi se nella vostra macchina non avete la versione CarPlay wireless ma solo cablata vi ricordo che se non avete neanche la versione cablata non potete neanche far funzionare questo apparecchietto beh l'apparecchietto fa da hub ciuccia tramite il suo wifi e il suo bluetooth la connessione del vostro iPhone e guardate, questo è CarPlay che va attraverso l'apparecchietto e vi viene sparato in macchina e devo dire che è una cosa che può essere comoda per qualche aspetto si può collegare il bluetooth perché è un doppio bluetooth uno slave e uno master quindi il vostro telefono lo potrete collegare all'apparecchietto ma secondo me ha poco senso io per esempio lo Xiaomi che sto utilizzando adesso l'ho collegato direttamente alla vettura e non sto andando verso bluetooth all'apparecchietto e devo dire che ha una buona intelligenza perché vi faccio un esempio se io vado a iniziare a riprodurre Spotify dov'è qua? l'ho trovato ovviamente va nei comandi vocali di Google tranquillamente e lo metto in riproduzione ok, sta andando se faccio una chiamata col telefono la chiamata sul telefono va in viva voce e va a, sentite, stoppare la musica vedete io adesso sono collegato con il viva voce bluetooth della vettura e si è stoppata la musica lì sull'infotainment devo dire che ha una buona intelligenza e ovviamente mettete giù la chiamata e ricomincia la musica ci facciamo un giro così vediamo come funziona il GPS e ho attivato sia Waze che Maps come vedete qua le ultime applicazioni che utilizzate vi vengono messe in scorciatoia devo dire che il GPS è stato preso subito tra l'altro l'abbiamo utilizzato per navigare fino a Grosseto in un viaggio che ho fatto qualche giorno fa e non ha mai avuto nessun tipo di problema e tra l'altro se utilizzate due navigatori come in questo caso Waze che magari lo utilizzate per gli autovelox e Maps o due applicazioni Maps come su tutti gli Android vedete vi va in finestra che è una cosa molto comoda però c'è da dire una cosa che quando utilizzate Maps è come se andasse a simulare una telefonata quindi l'audio dalle casse peggiora di qualità sia l'audio proprio di Maps ma anche se utilizzate Spotify ecco questo è l'unico baghettino che ho trovato il sistema per il resto è un sistema decisamente performante ben funzionante che mi è piaciuto che ha un senso che funziona bene la tua navigazione che va a duplicare le applicazioni che su Android Auto non vengono duplicate perché su Android Auto non tutte le applicazioni vanno sul display dell'infotainment per esempio Heavy Way si può utilizzare tranquillamente per ricerca delle colonnine abbiamo utilizzato prezzi benzina per vedere dove risparmiare qualche centesimo per fare il pieno insomma veramente un bell'apparecchietto che non si è incriccato ben funzionante non troppi bug il limite è un po' Android 9 con le patch di sicurezza ho guardato prima a dicembre del 2021 sinceramente non so quanto verrà aggiornato quanto le patch saranno supportate ma mi è piaciuto e lo potete utilizzare ovviamente anche senza sim nell'apparecchietto e lui va a ciucciare la connessione via bluetooth e il vostro cellulare ecco ma forse una sim la metterei anche per avere un backup della parte telefonica perché ovviamente oltre a poter utilizzare il telefono in bluetooth potete utilizzare l'applicazione telefono che va a usare la sim che avete nell'apparecchietto per fare delle chiamate quindi avere un backup anche dal punto di vista non è male quanto costa il tutto? non poco 230 euro e forse lì casca un po' l'asino io da utente sarei disposto a spendere per un accrocchietto del genere magari massimo 100-150 euro però devo dire che è una cosa che mi è piaciuta e funziona alla fine bene ciao